Ciao amici di Viti in Vino, siamo ancora qui per voi ad assaggiare degli ottimi vini con l'amica Sommelier Cristia e oggi un altro vino spettacolare. Siamo in Puglia, l'azienda si chiama Polva Nera e assaggiamo per voi il Primitivo 16. Si chiama così perché 16 sono i gradi appunto che ha questo vino. Primitivo al 100%, vino di Gioia del Colle del Pugliese, andiamo a vedere come si presenta nel bicchiere. Assolutamente, diciamo che il sole qua ha fatto un ottimo lavoro. Allora intanto un bel rosso rubino quasi impenetrabile direi, davvero fitto. Tipico del Primitivo avere dei colori. Bellissimo colore e direi anche bello corposo davvero di sostanza. si vedono tutti, 16 gradi. Un raso favoloso, incredibile, sentone al naso di frutta. Mi viene in mente esatto la frutta matura, supposa, delle prugne, delle amarene, una bella fragola però qui con la settimana più matura. Teniamola lì un po' questa frutta e abbiamo l'idea anche zuccherata. specifico perché è proprio davvero un bel frutto. Molto maturo. Molto maturo. Beh, il vino sicuramente è secco. In evoluzione, è morbido ma ancora si vede che può crescere. può crescere per qualche anno e potente. Molto potente. Calico, intenso, persistente. Magari in bocca rispecchia assolutamente i sentori del naso e forse ci aggiunge qualche piccola spezia a seguire mentre si apre mano mano. Non prevalla. È un vino che anche ha strutture e quindi a 16 gradi però si compensano molto bene con la struttura del vino. Sì, direi servito a 14-16 gradi. Assolutamente. E direi che qui potrebbe essere interessante abbinare qualcosa che lo sostiene nella sua forza. Sentiamo la cucina dei curiosi con il suo blog. Cosa ci dirà? Cosa ci dirà? Però a noi cosa ci può venire in mente? Beh, per esempio io ti direi anche per rimanere sul tema del posto, una bella costoletta Daniello. Ma la possiamo impanare, la possiamo friggere, nel senso che non viene da problemi. Impanate fritta. Impanate fritta così andiamo dalla parte. Assolutamente. Amici di Made in Vino ricordate di andare su madeinvino.com e di diventare sommelier con soli 19,90 euro e ogni mese vi arriveranno a casa due bottiglie di meraviglioso vino che noi selezioneremo apposta per voi. Che dire? CIN! A presto! Ciao! Ciao! Ciao!